Grazie a tutti. Perciò il dietro, il falco penetra in cielo, ok, sì, alto, ok, sì, due, tre, quattro, sei, ok, destra, ok, molto bene. Prova a registrare tutti e due, ma... Ok, 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 venissi. A sinistra, ok. Sì, sono a circonferenza, ok, apri la mano, vai. Sì, dietro, che vuol dire dietro? Sì, così, ok. Uno. Sì. Due. Passo in avanti, salto con il dietro e giù. Sì. Sì. No, avanza ancora dall'altra parte con l'altro piede e taglia. Sì, sembra. Vai, indietro con il destro, Kai Chang, sinistra, tre, va bene, avanza, quattro, ok, indietro, sì, perfetto, ok, ora va bene. Fang Shen, ah, sei ancora a destra, torna a sinistra, rifallo un'altra volta. Fang Shen Chang. Sempre lo stesso devo fare? No, 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 fai l'ottavo, Fang Shen, il grande pitone si rovescia. Ah, sì. Verso il dietro, verso il dietro. No, verso il dietro se lo esce con il... Uno. Allora, vado, vado.